Eccoli là i grandissimi 5-1 per la Roma, quando gli arbitri non arbitrano male la Roma riesce a giocare bene, non sempre, ogni tanto ci prova però diciamo che oggi la partita della Roma l'ha stra-dominata, è stato un primo tempo veramente clamoroso, commentato già ampiamente in una live su Instagram fine primo tempo, se non l'avete vista è perché non mi seguite su Instagram non avete le notifiche, attivate ragazzi, seguite solo me, attivate le notifiche e sarà una vita veramente più bella, la Roma nel primo tempo ha fatto quello che voleva ma dall'altra parte c'era pure un Bologna che non è riuscito minimamente a diciamo arginare le volate offensive della Roma, mi sembra evidente che il Bologna non stesse in una giornata top, la Roma stava in una giornata top in cui gli è riuscito pressoché tutto se non le finalizzazioni perché veramente la Roma ha vinto 5-1 ma io sono curioso di vedere gli XG se ci sarà una statistica per gli XG intanto è finita pure la partita del Napoli il Napoli vince 2-1 in rimonta, ahimè, ma comunque la Roma vincendo 5-1 poteva segnarne 10-15 cioè Giacomo si mangia 3 gol mi chiedano pure qualcuno a rimorchio Pellegrini e parla del portiere nel finale Borca Maggiorello ci ha avuto delle occasioni mi è sembrata una Roma convincente chiaramente è una partita, le partite fanno tutte storia a sé è inutile starla collegare con il passato, con il futuro con quello che succederà con il Torino perché sarà tutta un'altra partita però devo dire che la Roma oggi c'è sana sono contento tra le altre cose perché poi è inutile stare a sottolineare tutti i gol ma sono contento soprattutto per alcuni calciatori per esempio Pellegrini che ha fatto un'ottima partita sia di interdizione sia comunque di fase difensiva sia in fase offensiva perché poi alla fine il golletto sull'ha fatto aveva fatto un'altra, annullato tutte belle cose, fantastico devi dare continuità perché non basta una partita per dire ah si ha visto Pellegrini no ragazzi, non basta una partita perché oggi hanno giocato tutti bene cioè venimi a dire uno che oggi gli può dare l'insufficienza a chi? a nessuno anche Paolo Lopez si becca la sufficienza e anche viene oggi quindi stiamo parlando comunque di ah si forse Cristante per il gol in difesa ma va bene quello è un altro discorso comunque sono contento per Pellegrini sono contento per Smalling che è rientrato finalmente perché c'è bisogno di Smalling con Bulla speriamo non si sia fatto niente di grave perché in cominci a diventare un'agonia questa dei flessori per i nostri difensori centrali non so che cosa facciano di particolare loro non lo so se giocano a palla a bolo fanno il muro a palla a bolo non lo so come facciano a sforzare sempre i flessori i nostri difensori non lo so anche perché poi in area di rigore in attacco di saltati di prendere la palla di testa non se ne parla quindi non lo so con Bulla mi dispiace di essere Cira però insomma abbiamo ripreso Smalling speriamo che possa partire già a titolare con il Coltorino a centrocampo crescita sicuramente evidente di Vigliare che continua a macinare partite dopo partite e a mettere esperienza in continuo Veredou solito calciatore motorino avanti indietro avanti indietro e ha messo anche il gol sebbene ce l'abbia contro il Fonteraccio forse nemmeno di non farlo ma va bene oggi hanno segnato pressoché tutti quanti bene Karlsdorp non benissimo come ho letto in alcuni commenti perché ho letto qui ragazzi sembra che ogni non lo so perché è biondo particolare se nota ogni cosa che fa il Karlsdorp per dire ragazzi finalmente il tersino destro l'abbiamo trovato mi è sembrata comunque una partita sempre con una squadra che ha performato bene ma una prestazione normale cioè non è che mi viene da Dio domani mi aspetto a rivedere Karlsdorp sì sette dai sei e mezzo sette no sette e mezzo otto sembra veramente da legge commenti che non so forse perché non vediamo l'esterno destro da anni se non Bruno Perez ma quello è un caso particolare di qualità sembra che ogni volta che uno faccia una partita decente è una prestazione clamorosa Spinazzola ottima partita di Spinazzola ecco più di Karlsdorp la prestazione mi piaceva più quella di Spinazzola anche perché c'ha più qualità quando vai in avanti nelle scelte Karlsdorp deve chiaramente riprendere un po' il ritmo il problema di Spinazzola è sempre uno che quando rientra ragazzi tira la porta prende sempre il piccione prende in distinto in curva in tribuna pure ogni tanto dopo di pure male che la prende nel mezzo esterno e la palla va in tribuna cioè quando la prende è sempre nella zona alta da quella parte a destra perché lui rientra col destra nella zona alta da quella parte a destra la palla sa che andrà lì più o meno mai importa questo è il problema di Spinazzola perché poi ci arriva pure con semplicità a predisporsi per quel tiro e non capisco come non farci a segnare Borca Magliorano nella fine ha avuto un bel impatto peccato che non abbia segnato ha fatto uno scavetta ha preso il palo sfortunato perché poi era la conclusione doveva fare perché non la poteva mettere vicino al difensore l'ha messa più vicino al palo e è stato sfortunato a prendere il palo grande assist di Mkhitaryan a destra e a sinistra oggi probabilmente mi ero in campo e sono Mkhitaryan effettivamente come gli ha dato Sky perché assist e cose e altre situazioni intanto mi continuano a scrivere e niente è gristante l'unica nota negativa perché a un certo punto in piedosidosi per la prestazione del Bologna che a quel momento non c'era ha detto vabbè sai c'è un cross lo stoppo dentro lo vado a purgare Paolo Lopez che mi sembra che stia facendo un po' troppo lo sveglio comunque ragazzi detto questo non so se andrò in live su Twitch se andrò in live su Twitch perché mi avete chiesto di andare su Twitch e non su Youtube innanzitutto chi non mi segue su Twitch il link è sotto in descrizione se non mi seguite perché non seguite il primo vero canale che ha fatto iniziare a fare i video su Twitch ma va bene seguitemi il link è sotto in descrizione seguitemi su tutti i social e vi aggiornerò su Instagram non so se con le tempistiche ce la faccio se ce la faccio ragazzi sarà la domenica più bella della vostra vita ciao a tutti quanti